Autoricambi Bartoli, specializzata nella vendita di accessori e ricambi di auto a prezzi confrontabili. Via degli Altiformi 27 a Portoferraio. Domani e domenica 22 aprile si terrà a Marina di Campo il quarto raduno nazionale Vespa Club. È vero, un interesse elevato perché quest'anno facciamo un raduno qui a Marina di Campo, perché il 7 novembre, come tutti sanno, c'è stato l'alluvione e noi con il nostro aiuto facciamo questo raduno nazionale con 500 partecipanti dove chiaramente diamo tutto in beneficenza. Nel mese dove c'è molta meno gente all'isola d'Elba, con il nostro evento portiamo un po' di gente quando davvero ce n'è bisogno. Ci sono delle vespe uniche, uniche davvero al mondo, ci sono degli esemplari che ci invidia tutto il mondo perché ci sono tre vespe del 98 che sono tre esemplari unici, unici davvero al mondo che è un valore inestimabile. Diciamo che il potenziale per migliorare c'è sempre, però l'evento si sta diventando davvero grandissimo e noi quattro, perché siamo quattro in realtà, quattro, cinque ragazzi, non riusciamo più ad affrontare un evento così grande perché davvero ci sono cinque, seicento iscritti e siamo pochi, bisognerebbe che ci si riunisse un po' tutti e fare una forza unica per portare avanti un bel discorso che mi sa che sta diventando, non dico mondiale, ma quasi. La manifestazione avrà un programma molto ricco e invitante. Ci saranno stand enogastronomici, mercatini per gli appassionati, musica dal vivo e anche una lotteria con una vespa in palio.